Buongiorno amici di Youtube, oggi siamo ad Alassio e là c'è l'isola Gallidara e vi porterò a vedere una costruzione, una bella gara E adesso vediamo che votate Allora, stanno costruendo una costruzione con la sabbia Davide e Andrea Sono in fase di lavorazione Io però non con la sabbia perché sto facendo una casa Una casa ma proprio vuole fare il pavimento con il bambù Vedrete, è una cosa fabbiosa E voi poterete quale sarà la costruzione più bella Vi raccomando e vi aspettiamo Quindi tutto il pavimento E' più bravo La più chiara Tipo, ecco Questo è un bambù Quindi vorrei fare tutto il pavimento col bambù Cioè tutto, adesso hai spianato Metti pietra e bambù per fare il pavimento Molto bello E poi bisogna mettere tutto il bambù E poi bisogna fare di nuovo i muri con tutto il muro Davide, invece la tua costruzione, spiegamelo un po' in cosa consiste Il mio costruzzo è messo lì E' un'aroma Questa è una galleria? No, non lo so E' una cosa di accoglienza Di accoglienza? Raccontala un po', stiegala un po' ai nostri amici di Youtube Così si capisce Qui è tutto un pò di bambù E qui c'è tutto Lì è la stanza che ballano Qui è dopo il mare Domani E qui ci sarà tutta l'acqua Mini! Tipo questo bambù Mini, non puoi prendere i bastoni dei loro bambù Guarda Tipo questo qui è un bambù Sì Guarda Sì Sì, sì Mini, non ti arrabbiare No, no, no! No, no, no! e poi adesso stai coprendo tutto i bastoni i cerchi, i bastoncini, i bastoncini ok, adesso ti aiuto adesso ti aiuto adesso vado a vedere anche che opera sta facendo il fruttello vado a vedere che opera sta facendo il fruttello un attimo cosa stai facendo il tuo amore invece? la lato ah, stai affilando un bastone si ma lei ha affilato tantissimo e come lo riuscirete a affilare? il legno che ha affilato a casa mia ma questa è cosa tua? praticamente sto creando la casa le fese poi metto il bastone ah, adesso lo fai, fai il pavimento di pietra, fai ma non male perdono il progetto per cercare il tuo nome come siete sicuri? avete sentito? sì, sì e beh i Lazza Famine diventeranno ricchi dopo queste ricerche forse sai, fai il surf ma io surfo è ma io sei comoda? ma io sei comoda? non è dici Davide gioca minuti ho cercato un'ombra sei già stanca te, minuti ho già giocato troppo ciao papi siamo ad alassio questo è già venuto meglio è già venuto meglio questo bello 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 in assenza della tavola non abbiamo lo skateboard qui allora ciao andrea ascolta non è che vai a vedere là perché ci deve essere un bambino che ha perso un soldino adesso ti faccio vedere dove proviamo a controllare un attimo guarda più o meno vai avanti vai avanti l'ho sentito prima col metal detector ecco più o meno qua ma andrea ma fai attenzione ma sei finito nel trombuco mi piace mi piace ma dove è il bastone dammi quello dammi questo bastone dammi questo bastone dammelo 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 mi mi vieni dammelo dammelo mi mi ma mia ma me lo lasci eh ma come faccio a giocare Eccolo qua! Vai! Brava! 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 E' tanto detto! E' tanto detto! E' tanto detto! E' tanto detto! Cos'è? Cos'è? Buciglia di vino oro! Che cazzo? Così posso trovare l'oro? Oddiami! Oddiami! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Marco! E' pescato Davide il primo! Bravo! Ok! Andra è pescato? Sì! Vai dai dai! Prendi! No! Se mi scappa... Non riprendi un altro! Non riprendi un altro! Non riprendi un altro! Prendi un altro! Oh! A te ma mi scappano tutti! Che sfortuna! Guardo la cacca! E devo correre la cacca allora con la mano! Lo faccio! Ma scusate ma se avete... Se Davide ha dei figli cambierà lui i suoi figli! Eh dai! Eh ma se li hai tu Andrea che li cambi! Sì ma se li hai tu? Se li hai tu? I tuoi figli? Guarda le lecce... Dico... Vieni qui cambio! E ora vado a chiamare la mamma! Ma così? Gli dici di andare a chiamare la mamma? Vieni qui! Vieni qui che hanno fatto la cacca! No ma non lo metto da nessuna parte! Non lo metto da nessuna parte! Un saluto e lazza! Salute! 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 Salute!